Hi guys, qui è Ryan, il vostro cripto analista di fiducia e andiamo a vedere cosa sta succedendo sui mercati, dato che abbiamo un sacco di novità. Dato che ieri sono entrati al mercato i principali e GapSpot approvati i Yavlato e l'Alasec. Infatti stiamo parlando dei GapSpot che hanno generato circa 4,6 miliardi di dollari di trading volume nelle prime 24 ore dal momento del lancio. Prima però passiamo con la risoluzione su CryptoBubble, se rendiamoci conto come si sta comportando il mercato quest'oggi. Possiamo vedere che abbiamo un mercato tendenzialmente verso il negativo, abbiamo per esempio Injective Protocol che perde un 7,4%, abbiamo 6 che perde un 8,6%. I lineaggi reali a parte pochissimi, abbiamo per esempio Sui che guadagnano un 11,4%, abbiamo comunque un mercato tendente verso il negativo. Tendente verso il negativo è infatti anche Bitcoin che negli ultimi 24 ore sta perdendo un 3%, ha se sta andato un prezzo a 45.891 dollari. Nonostante nelle ultime ore abbia toccato addirittura la solle dei 49.000 dollari nel primo giorno di negoziazione di questi ultimi GapSpot listati principalmente sull'exchange del NYSE. Passiamo con Ikirium invece che negli ultimi 7 giorni, ragazzi, sta facendo una performance del 18%, confermando il prezzo a 2.654. Comunque sia, come vi ho detto prima, diciamo che la tendenza è più verso il negativo in TOC-100, ma comunque anche in TOC-200. Passiamo con la visuale, soprattutto con vedere come si sta comportando Bitcoin. Come vi avevo detto, ragazzi, nella candela di ieri che sarà presentato ovviamente l'andamento del prezzo di Bitcoin, durante la giornata di ieri, durante la sessione di ieri, possiamo vedere che ha toccato quasi 49.000 dollari. 49.000 dollari che le ha toccati durante la sessione americana perché, come vi ho detto prima, sono stati innescati, sono stati portati soprattutto per la negoziazione Payprini e GapSpot in zona americana. Comunque sia, possiamo vedere che si è conclusa con un pattern letteralmente bearish. Infatti, se andiamo a calare il time frame, mettiamo magari anche il one hour, possiamo vedere che abbiamo ricorretto completamente il riassorbito, anche con molta violenza, quegli impulso che si hanno generato delle prime ore di negoziazione. Ricordando sul daily, possiamo vedere tuttavia che, ragazzi, lo scenario non è chissà quanto positivo almeno per quanto riguarda gli ultimi giorni. Infatti, questa brutta candela qui tendenzialmente potrebbe preannunciarci un'interzione di prezzo per quanto riguarda Bitcoin. Però, prima di farci, ragazzi, dobbiamo rientrare l'interno di questo cuneo che avevamo contassegnato negli scorsi video. Infatti, ragazzi, attenzione perché potremmo arrivare al delitore al prezzo di 45.100 dollari in modo che vada a ritestare questa paretia. Qualora dovessimo vedere una domanda soprattutto bullish in concorbitanza di questa zona, potrebbe essere un'opportunità di andare lunga. Tuttavia, ragazzi, se abbiamo una chiusura che ci rientra e ci fa rientrare al prezzo proprio di Bitcoin, in questo caso, all'interno di questo curio ascendente, ragazzi, potrebbe essere una buona opportunità di short fino alla parete inferiore, che è 0,43.000 dollari. Ragazzi, come parlavamo ieri, l'attenzione di tutto il mercato crypto si sta spostando verso Ethereum. Infatti, come andremo a vedere nelle news più importanti delle ultime 24 ore, ragazzi, anche gli investitori istituzionali, dopo l'approvazione del Bitcoin ETF, lo scenario si sta spostando sempre più verso Ethereum, come anche l'attenzione. Infatti, è evidente come Ethereum, a partito dall'ottosimedio del 2024, abbia fatto una performance del 22,36%, almeno nel momento in cui sto registrando. Nel stesso lasso di tempo, se andiamo a prendere in considerazione il grafico di Bitcoin dall'8 gennaio, tornando appunto sul grafico, possiamo vedere che ha fatto una performance confermata di soltanto il 6%. In pratica, le performance di Ethereum, se andiamo a prendere anche il grafico proprio di Ethereum in confronto a Bitcoin, sono totalmente chiare. Infatti, i vari caratteri stanno passando proprio da Bitcoin verso Ethereum. Perché? Perché appunto qui stiamo assistendo a una bella rotazione di capitali, che possiamo vedere a partito sempre dal 9 gennaio abbiamo assistito ad un incremento di Ethereum contro Bitcoin del 21%. Questo è evidente quanto potrebbe innescare una rotazione a sua volta nelle altcoin maggiormente capitalizzate, passando ovviamente da Ethereum. Quando avverrà, ragazzi, potrebbe avvenire anche nei primi giorni della settimana prossima. Vi segnalavo negli scorsi video come una possibile continuazione poteva arrivare sino alla zona che stiamo testando in questo momento, della zona B0.057. Se dovessimo rompere questa zona, potremmo letteralmente fiondarci prima a 0.059 e poi a 0.062. Ragazzi, fate moltissima attenzione perché adesso l'attenzione ci sta spostando prima su Ethereum e poi molto probabilmente sulle altcoin più capitalizzate. Passiamo con la prima news molto importante. Infatti, ieri, durante il primo giorno di negoziazione di Bitcoin e ETF, abbiamo visto un 4,326 miliardi di dollari trading volume registrati in soltanto il primo giorno di negoziazione. Poi, possiamo vedere che è successa una cosa molto particolare. Infatti, Vanguard, che sapete benissimo che non approva moltissimo Bitcoin, ma comunque è uno dei gestori più importanti anche a livello di trading e investimento a livello istituzionale, ha bloccato i propri clienti a comprare Bitcoin e Spot ETF sulla propria piattaforma. Infatti, ragazzi, moltissimi player che operavano proprio su Vanguard si stanno spostando su Fidelity, proprio perché Vanguard almeno attualmente non dà la possibilità di andare ad operare su questi nuovi strumenti lanciati anche dal corosso più grande di Vanguard, ovvero BlackRock. Passiamo con un'altra dichiarazione che ha fatto il CEO Larry Fink di BlackRock e possiamo vedere che ha detto che vedono un grosso valore, una grossa opportunità nel ottenere l'approvazione dei prossimi ETF Spot. Però, dopo quella di Bitcoin, stanno sempre puntando su Pichilium ed è anche per queste motivazioni che Ethereum sta sopra-performando anche Bitcoin, che ovviamente delle criptovalute, avrà incontastato. Chattibood si è espressa sempre allo stesso modo e l'ha sparata molto, molto forte, molto grossa. Infatti, diciamo che si è sposta dicendo che Ethereum sopra-performerà Bitcoin nella prossima bull run. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se anche voi combivete l'opinione di Chattibood, che ricordo che è il CEO, una delle capoccia di Archimbest. C'è un grafico che vi volevo portare in esame, proprio prendere in considerazione per quanto riguarda la situazione delle percentage supply and profit, che prende in esame tutti quei portafogli che attualmente sono in profitto su Bitcoin, in questo caso. Infatti, possiamo vedere che siamo arrivati a dei livelli molto, molto alti. Abbiamo un 94% di persone di portafogli che sono attualmente in profitto proprio su Bitcoin. E questo, sapete che non è assolutamente uno scenario bullish, soprattutto non è una metrica bullish, perché sostanzialmente quando andiamo a rompere verso il rialzo, la storia del 95%, probabilmente potremmo assistere a una correzione verso il basso. È anche vero che durante le scorse bull run siamo arrivati più e più volte a queste percentuali di profitto. E ovviamente, qualora si avvicinasse sopra i 96 dollari, potrebbe essere il momento di andare a liquidare le nostre proposizioni di Bitcoin. Non ci siamo ancora, però attenzione a quel che è andato a fare. Ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video. Vi ricordo che qui sotto in descrizione, se volete supportare il mio lavoro, ma soprattutto se volete andare ad ottenere vari vantaggi, come per esempio un bonus di registrazione che va fino a 6.045 USDT per tutti quelli che vogliono fare trading attivo sui mercati, c'è la possibilità ovviamente di iscriversi a Bybit, che è il numero uno a mio modo di vedere, lato che faccio trading da amico per andare ad operare all'interno del mercato delle criptovalute. Oltre ad avere uno scopo sulle trading fees, avete anche il miglior strumento che voi possiate mai utilizzare. Tra l'altro c'è anche disponibile la carta per andare a spendere direttamente le vostre criptovalute. Per questo video è tutto. That Ryan, bye.